Buongiorno a tutti, sono Ezio Minari, titolare della Evarente, la concessionaria di automobili nuove ed usate con sede in Ronciglione, Piazza Principe di Napoli 15. Sono qui per presentarvi una delle vetture in vendita presso la Evarente, nello specifico parliamo di una Doblò, anno 2011, 2009 JTD, versione E-Motion, l'E-Motion è l'equipaggiamento della vettura full optional, quindi come possiamo notare cerchi in lega, abbiamo il climatizzatore automatico, poi andremo a vedere, abbiamo i vetri posteriori che sono elettrici, quindi salgono e scendono a differenza di altre versioni che ce l'hanno a compasso, i vetri scuri come potete vedere, eccola qua, allora la vettura possiede un'usura di pneumatici pari al 40%, quindi abbiamo un 60% anche forse il 70% di battistrata degli pneumatici. La vettura ha piccole disettosità dal punto di vista estetico, ma nessuna dal punto di vista meccanico, anche perché come tutte le vetture commercializzate dalla Evarente provvediamo ai controlli sia statici che test dinamici per verificare il totale stato d'uso della vettura e operare qualora ne abbiamo la necessità sostituendo dei componenti meccanici o elettrici. Dicevo che abbiamo qualche difformità dal punto di vista estetico, ve li facciamo vedere subito, questa vettura è stata grandinata, oltre a questo, eccola qua, anche un po' sul tetto si nota, non si nota moltissimo, questo anche grazie al colore, però qualcosa ce l'abbiamo. Per quanto invece riguarda il resto, la vettura è perfetta, possiamo notare gli interni, preciso che la vettura ha percorso a 184.000 km, è unico proprietario e ha effettuato tutti quanti i tagliandi e i controlli presso il meccanico con conseguente fatture in visione. Gli interni come potete vedere sono stati sanificati e disinfettati, la vettura internamente come dico, come ho detto poc'anzi, è perfetta, abbiamo il climatizzatore automatico, abbiamo la radio, abbiamo lo start and stop che ci permette di consumare molto di meno, con la possibilità di togliere tutti i controlli elettronici, questo se andiamo sulla neve. Qui abbiamo un stupendo vano porta oggetti, eccolo qua, abbiamo i sensori di parcheggio e la regolazione del volante e del sedile sono in altezza. Gli specchi esterni sono elettrici, regolabili elettricamente e come dicevo abbiamo quattro vetri elettrici anche per le porte posteriori. Ora usciamo, osserviamo bene tutta la modulabilità di una vettura del genere, è ottima per chi ha figli, stupenda per chi invece vuole utilizzarla sia per lavorare che per, eccola qua, molto facile da utilizzare, che per chi lavora e ha famiglia. È una vettura con dei costi gestionali molto molto ridotti, di Fiat, quindi abbiamo una vettura ben gestita. L'auto può essere finanziata totalmente e ovviamente il prezzo è un prezzo da PIL, abbiamo delle piccole difficoltà, sempre permettendo che per quanto riguarda la meccanica, quindi motore in cambio, abbiamo una finanzia di 12 mesi. L'aspetto estetico può essere rifatto presso il nostro cilindro di carrozzeria, qualora venisse richiesto, con una piccola somma in più. La vettura, dicevo, può essere finanziata totalmente, anche senza albicipo. Inoltre, come potete osservare, le nostre larghe sono esposte, quindi potete controllare chilometraggi, stati d'uso già presso la vostra abitazione, grazie al potente mezzo che è internet. Per quanto riguarda prezzo e tutto quanto, vi rimando all'annuncio che verrà postato su internet e sul nostro sito che è www.evarent.it. Rimango a vostra disposizione rispondendo a qualsiasi vostra domanda al numero 327 25 44 550 e vi invito a prenotare un test drive per verificare lo stato d'uso e il comportamento per quanto riguarda su strada del veicolo. Grazie per l'attenzione, buona giornata.